E' proprio perché ho grande rispetto della Cireale, della sua gente, dei suoi tifosi che dico questo, perché non mi va di fare la parte del cattivo che non ci siamo fermati. I ragazzi, io gli ho detto di rallentare più di quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, siamo tornati indietro 50 volte e non si poteva fare. Quindi noi abbiamo anche la necessità di mettere in mostra i nostri giocatori che giocano di meno, quindi io prima di rispettare gli altri devo rispettare me stesso e i miei giocatori. Perché poi quando ci sono delle competizioni così ufficiali, quindi i ragazzi che giocano di meno si aspettano di mettersi in mostra e con questo livello di questa gara oggi non è potuto accadere. Ora al di là del risultato che la gara non era impari e quindi mi dispiace poi sentirmi dire anche certe frasi a fine partita da alcuni dirigenti loro, quindi passare anche dalla parte del cattivo non ci sto. Assolutamente sì, per me ha senso, per me è una competizione valida, voglio provare ad andare avanti perché ci dà lustro, perché ci dà soddisfazione, perché è una competizione bella. Poi adesso arriveranno anche delle partite in trasferta, quindi i miei giocatori avranno anche la visibilità a livello non solo regionale ma anche nazionale e quindi è una competizione che va rispettata. Io non vorrei sbagliarmi però i valori dello sport non sono fermarsi, i valori dello sport è onorare l'incontro sputando l'anima fino al novantesimo, cioè se c'è qualcuno che non ha rispettato il Trapani è stata la Cireale. Questo mi dispiace dirlo perché poi ha una grande tradizione, ha una grande storia, la Cireale, però questo è quello che penso. No, ma siamo contenti nel senso che siamo contenti che sia rientrato Galletti, di aver fatto esertire Tranchida, abbiamo dei giovani interessanti, per oggi la partita sinceramente non fa testo, non è valutabile, dal mio punto di vista è servita solamente per fare una sgambata a minutaggio perché non c'è stata intensità. Abbiamo giocato solamente praticamente un tempo e quindi poi tutti gli altri ragazzi hanno dovuto adattarsi a quelle che erano le situazioni. Io gliela rigiro a lei la domanda, secondo lei qual è la cosa giusta da fare? Io lo so qual è la cosa giusta da fare, è onorare l'impegno fino alla fine, tu non onori l'impegno se ti fermi, lo onori spingendo fino alla fine. È ovvio che se... Non continuare magari ad infierire. Ma non abbiamo infierito il secondo tempo, la partita l'avete vista, i giocatori sono tornati indietro più volte perché comunque avevamo dei ragazzi che comunque hanno fatto un'esperienza, sono venuti qui, i ragazzi del 2004-2005 hanno giocato in uno stadio vero contro una squadra vera. Purtroppo in tutti i campionati succede anche di perdere in questa maniera. Però è ovvio che... Cosa devo dire? Cioè abbiamo passato il turno e devo dire che mi dispiace. Quindi però, te l'ho detto, a fine partita prendere parole anche da qualche pseudo dirigente avversario che mi insultava, cioè forse non ha capito bene qual è il senso dello sport perché poi dopo ci arrivano delle direttive alle quali noi dobbiamo attenerci io più che dire ai miei ragazzi di tornare indietro, di rallentare, di non infierire e poi se il ragazzo che vuole mettersi in mostra arriva lì davanti alla porta e fa gol cioè è una cosa normale nel calcio. Ma io non ho fatto nessun esperimento. Ho cambiato due giocatori dalla formazione di tornare domenica proprio per onorare l'impegno perché noi abbiamo saputo all'ultimo minuto che sarebbero venuti con i ragazzi della Beretti però la settimana scorsa fino a giovedì ci avevano detto che a Ligata non si giocava perché per tante situazioni e quindi poi dopo abbiamo giocato e allora dove sta la verità? Quindi io non lo sapevo che tipo di squadra, io ho preparato la gara al meglio poi vedendo com'è andata la partita, te l'ho detto, non c'è nessuno spunto per noi in questo momento qua abbiamo cercato di fare un allenamento che nel primo tempo abbiamo dato un pochino di intensità è ovvio che il carico settimanale era anche in funzione di questa gara alcuni giocatori li ho risparmiati, altri li ho tolti il primo tempo più di questo non si poteva fare adesso questa è accantonata e dobbiamo pensare alla Vibonese che è una gara difficilissima ma passano tante cose però io come ho già ribadito tante volte non mi aspetto niente da nessuno faccio l'allenatore quello che mi mettono a disposizione io cerco di allenarli al meglio questi ragazzi che stanno facendo delle grandissime cose certo quello che vorrei io è qualcosa di diverso però se non arriva, te l'ho detto, penso solo ad allenare la squadra lo faccio con grande gioia e con grande senso di responsabilità perché alleno una, come ho detto più volte, una piazza importantissima quindi Nicola ti rispondo così devo stare concentrato solamente a quello che succede sul campo ma la tredicesima fu istituita se non sbaglio da Mussolini adesso c'è anche la polemica del fatto che anche quelli di sinistra dovrebbero rifiutare la tredicesima perché la istitui però questa parte, a parte le battute quella era un modo di elogiare i miei ragazzi perché in questo periodo si sono sentite tante chiacchiere però adesso anche stanno mettendo la società sta mettendo tutte le cose a posto i ragazzi sono più tranquilli, sono sereni e spero che concludiamo bene questa prima parte del giro d'andata andiamo a casa, facciamo un bel Natale poi ci prepariamo per la seconda parte della stagione che vorrei divertirmi a vedere questi ragazzi giocare ma sicuramente, da come abbiamo visto un po' tutti la partita non ha avuto storia il nostro obiettivo era quello di disputare i 90 minuti onorando innanzitutto la maglia che indossiamo poi tutto il resto lo lasciamo agli altri penso che siamo stati anche forse fin troppo buoni però fa parte del calcio no, diciamo che stavo trovando già spazio anche due settimane fa poi sono stato penalizzato dalla scuolifica a mio parere ingiusta però poi ognuno ha i suoi parametri di giudizio quindi diciamo che quelle due giornate mi hanno un po' frenato però l'importante era oggi scendere in campo il mister mi ha tenuto 90 minuti dentro poi sì, anche se non contano molto in queste partite gollo fanno sempre piacere quindi bene così no, ma partite vere penso le siano tutte poi magari ci sono partite come quella di oggi che hanno una storia a sé però noi scendiamo sempre con l'atteggiamento giusto in campo e penso che quello sia la base di tutto non vedo altre soluzioni che non lavorare duro affrontare ogni partita con il coltello tra i denti sì sì, questo sì, magari con lo sfoltimento della rosa adesso ci sarà un pochettino più di spazio per me e per alcuni miei compagni però a livello di responsabilità penso che anche quando eravamo 28, 29, 30 ognuno c'era le sue sapevamo perfettamente di essere a Trapani anche se erano i due, i tre, i cinque minuti sapevamo che mai indossavamo e quindi non per quanto riguarda questo discorso della responsabilità non cambia molto ma secondo me sotto l'aspetto dell'impegno anche se magari i risultati non sono venuti alcune volte quello non è mai mancato te lo posso dire in prima persona perché vivo lo spogliatoio, vivo la squadra quotidianamente quindi questo te lo posso sicuramente dire però mi aspetto un giorno di ritorno sicuramente spero migliore di quello dell'andata spero per me e per tutta la squadra di fare avvicinare la tifoseria di creare quell'ambiente che magari rispetto all'inizio si è sciolto e poi perché no, pensare dopo partita dopo partita e poi alla fine tirare le somme